il luca si ha fatto un muro di legna ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19, aria via il motorino come potete vedere oggi abbiamo tagliato la linea, adesso la sto svuotando il padre qui il luca guardate che bel muro che ha fatto qua se volete vedere la progressione del taglio della legna se avete instagram potete vedere tutte le foto all'interno delle storie che ho caricato man mano che la tagliavamo va bene dai, adesso dobbiamo sistemare un po' il terreno dove abbiamo tagliato e poi abbiamo finito tutto qua ecco che ha revoltato un po' grazie